Chiesa di Santa Lucia tra le più importanti di Lanciano nel rione Borgo lungo Corso Roma, retta sopra il Tempio di Giunone e con notizie certe sulla sua presenza sin dal XII secolo. Nel Trecento fu ornata dallo splendido rosone di Francesco Petrini che lavorò anche a quelli di Santa Maria Maggiore e Sant'Agostino così come dal Portale Gotico. Dedicata ad una delle sante più venerate della cristianità si leva ora un grido d'allarme sulle sue condizioni denunciate già dai fedeli arrivate all'Associazione Italia Nostra che pone l'accento sull'immobilismo e l'indifferenza di chi dovrebbe invece tutelare i beni artistici e culturali della città. A parte il restauro della parte bassa della facciata effettuato nei primi anni del 2000 con cemento buttato qua e là e senza ricomporre il cordolo ormai disgregato la parte interna della struttura soffre di infiltrazioni d'acqua muffe, crepe, lesioni. Immagini che parlano chiaro e che coinvolgono le colonne di una navata, la pavimentazione, le antiche mura. Italia Nostra sollecita interventi ed ispezioni urgenti per non compromettere la stabilità del complesso. Il presidente Pierluigi Vinci Guerra. La situazione è grave e chiaramente Italia Nostra vuole informare chiaramente la Curia ma anche l'amministrazione comunale dello stato di degrado in cui si trova non solo la facciata che è stata restaurata nel 2007 ed ecco i risultati del restauro con le acque piovane che normalmente poi si immettono direttamente sulle pareti perimetrali dell'edificio. Ma quello che sta accadendo all'interno di fatti tutti i pellegrini, coloro che frequentano questa chiesa da anni, hanno e stanno dicendo e hanno detto anche ai responsabili della Curia di prendere dei sedi provvedimenti perché su un laterale della navata laterale della chiesa ci sono delle grosse infiltrazioni di acqua dovuti, non si sa che cosa, se nella parte superiore della copertura oppure nella parte sottostante sulla parete ci sono dei tubi di acqua che evidentemente corrosi nel tempo e perdono acqua e si sta completamente rovinando il basamento, le colonne e tutta la parete laterale destra della chiesa di Santa Lucia senza che nessuno pone rimedio. Io vorrei ricordare che abbiamo anche un presidio della sovrintendenza, io vorrei sapere cosa fanno questi del presidio, se stanno lì a rovistare soltanto le carte dalla mattina alla sera e noi li paghiamo purtroppo oppure loro sono tenuti, io penso, a controllare anche lo stato di consistenza, di degrado, di manutenzione di questi edifici storici che hanno un pregio notevole per questa città che oramai è morta.